Ciao a tutti e bentornati come una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Operencia de Stolen Sun, un gioco che c'era già nei mesi scorsi ma solo su Epic Store. Adesso è uscito anche su Steam. È un gioco che ho già giocato per una quarantina di minuti e ho voluto portarvi da questo punto perché da questo punto finisce diciamo quello che è il tutorial iniziale che appunto mi ha richiesto una quarantina di minuti dove si affrontano diversi nemici, dove si interagisce con l'ambiente, dove si combatte un drago. Allora, permetto una cosa, avete visto il titolo, magari siete andati a vedere su Steam, su internet in generale che tipo di gioco è e avete visto che è un gioco stile Vaporum, quindi un gioco molto vecchio come concezione, il movimento su griglie e tutto, ma devo dire che veramente mi ha stupito. Credo che siano anacronistici giochi del genere ma in questo caso forse ha un non so che di moderno all'interno. Il gioco ha un'ambientazione fantasy ma con personaggi e luoghi reali vissuti davvero. Si parla di Attila, si parla dei Magiari, insomma. Andiamo a vedere. Io ho deciso di partire da questo punto perché mi ha fatto selezionare la difficoltà, se la mappa c'è, se dobbiamo disegnarcela noi, se si può, diciamo, riposare i falò e salvare automaticamente, oppure solo tramite i falò, la difficoltà, i nemici. A questo punto si inizia a creare un personaggio. Quindi il vero gioco inizia adesso, quindi non avrebbe senso farvi vedere il tutorial. Il tutorial, ok, ci mostra le meccaniche, ma qua inizia il vero gioco. Quindi non saprei neanche cosa fare. Facciamo magari un mago. Andiamo avanti. Un aspetto. Lo facciamo... no. E mago, no. Dai, facciamo questo. Ma sì, dai. Allora, l'origine. Bergen Gossia, Foresta Rotonda, vediamo un attimino. Ci dà, vedete, dei bonus diversi. 5 forza, 9 intelligenza, mare di operenza. Io direi che possiamo fare... Montagne di vetro è molto bella. Vedete che c'è tutto, ma ovviamente avete notato che in italiano c'è tutto un background dietro. Ma è di fare la Foresta Rotonda. Impossibilità di ignorare il danno elementare, fuoco elementare, fuoco, fulmine e gelo. Va bene, andiamo avanti. E qua decidiamo la nostra, le nostre caratteristiche. Io prendo l'intelligenza che va a determinare l'energia. L'energia ci serve per lanciare gli incantesimi e le abilità speciali. Perché ogni personaggio ha delle abilità che sono di default per tutti i personaggi del gioco e altre invece che sono specifiche. La saggezza invece ci aumenta anche lei l'energia. Sì. Il vigore non mi interessa, l'agilità nemmeno. Quindi diciamo che possiamo andare a fare una cosa di questo tipo. Talenti. Colpo di fulmine. Colpo di fulmine mi piace molto. Il rogo 6-10 danni. 5-9 danni. 50% di essere trasferito. Possiamo tenere mi piace molto. Possiamo prenderne 2. Quindi prendo anche il rogo. Questi debuff qui di paura non mi piacciono perché tante volte contro i boss non servono. Indie. Il mio nome è... E iniziamo l'avventura. Iniziamo la nostra avventura. Vi faccio vedere come funziona. Vediamo la grafica iniziale. Un giovane contadino ebbe un sogno. Cioè pensate che è un gioco con movimento orizzontale ma con la possibilità di interagire. Tipo troviamo un secchio, possiamo interagire con l'acqua, lo riempiamo d'acqua. C'è una parte di mappa bloccata perché è incendiata, usiamo il secchio, insomma. Cosa molto base però che ho apprezzato molto. Cervo della leggenda, insomma, vabbè. Adesso magari saltiamo e andiamo avanti così non vi spoilerò nemmeno la storia. Non so dirvi però la durata. Sicuramente i disegni sono fatti molto bene. Andiamo al castello sommerso. Un sentiero conduceva la foresta fino a la margine del lago e poi attraverso il lago stesso. Vabbè, saltiamo anche qui e cominciamo, dai. La vita scorreva così placidamente però hai fatto un sogno e lo hai fatto ancora. E una volta ancora. Ogni notte un cervo bianco. Ogni notte un castello affondato è giunto il momento di secondare a quel sogno e preparate ad un'incredibile avventura piena di strane sorprese. Si fa intrigante. Oltre al cancello si trovava la figura di un uomo contro un pilastro. Sembrava incosciente o peggio. Va bene. Il giovane magolo che ha detto è morto. Ha infilzato il corpo con la sua lama giusto per essere sicuro. Come hai fatto? Chi sono? Mi hai appena infilzato con una spada. Come faccio a sapere che... Ah, sono io, questo. Non hai niente da te meno da parte mia, ok? Sei entrato in questo castello maledetto. Non mi stai rubando la ricompensa, ne ho ricevuta già abbastanza oggi. Ricompensa, certo. Hai creato il sentiero del lago? Nel lago. Possiedo, beh, possedevo il magico amuleto di Zotmund. E ho attraversato l'inferno per ottenerlo. Il potere dell'amuleto ha aperto l'ingresso di questo luogo. Interessante. Mi piace, è fatto bene come, diciamo, a livello di intrigare il giocatore. Non mi dispiace. Per essere sicuro mi hai colpito col suo arco appena prima di andarsene con l'amuleto. Ok. La cicatrice sulla tua fronte è notevole. Eppure sei praticamente illeso. Sei molto attento, non vedo naturalmente. Ok, questo tizio qui gli ha fregato l'amuleto. Ok, quindi dovremmo avere già un compagno. Spiegherò mentre andiamo. Ok, vedete che la grafica è molto carina, ma soprattutto il... La mappa è questa. Ma il movimento fisso, cioè non fisso, ma... Ecco il mouse. Fa, tradisce, diciamo, la presenza dei quadretti per camminare. Vedete, poi si cammina normalmente. Però camminando, guardandoci intorno, non si percepisce... Ovvio che quando ci sono delle... E ci sono. Delle ambientazioni messe magari più in diagonale, si cozza un po' perché si cerca di muoversi come fosse un... Un... Uno sparatutto in prima persona. Insomma, un gioco di ruolo un po' alla Skyrim. Ma in realtà non è. All'interno troviamo tunica, fionda, chiave di ferro, oro. Saccheggia tutto. Perfetto. Il menu di gioco, con la P. Apriamo la compagnia, vediamo le due persone. Possiamo andare ad equipaggiare gli oggetti. Ok. Ottimizza tutto. Quindi andiamo ad equipaggiare. E anche a lui. Sì. Beh, intanto vedete che qua ci sono anche le abilità. In questo caso abbiamo alcanista, studioso, elementare. Qua dice elementare, vabbè. Lui sembra essere più un ladro, alchimia, furtività. Lui riesce a fare incantesimi di guarigione. Le abilità attive sono queste. Le mie sono queste. Abbiamo delle abilità comuni a tutte e due che in genere sono l'attacco a distanza, l'attacco corpo a corpo. E qua vediamo gli attributi, con la possibilità di ridistribuire i punti. Allora, con la I c'è l'inventario. Perché abbiamo già equipaggiato praticamente tutto. Va bene, andiamo avanti. Vedete che qua inseriamo la chiave e entriamo. Cioè praticamente siamo sott'acqua. Perché qualcuno dovrebbe chiudere questo posto? Allora, entriamo. Trova la prima torre. Uh, c'è un mostro lì da combattere. Ovviamente se noi lo raggiungiamo alle spalle, possiamo tendergli un'imboscata. Vedete che adesso... Uh, ok, imboscata. Sono due. Allora, vedete che qui queste tre dovrebbero essere quelle comuni a me e a lui. Allora, inizio con un'attacco a distanza. Allora, intanto vedete che ci sono tre linee. Sono tre linee di posizione. Loro sono in prima linea, poi c'è la seconda linea e l'ultima linea in fondo. Se noi passiamo su ogni singola abilità, in alto, questa abilità qua, vedete, ci sono delle linee. Dice quanto è efficace in base a dove si trovano i nemici. La gialla, che è la linea davanti, vedete che è piena. Mentre invece è al contrario l'attacco a distanza, che è molto più efficace sulla linea in fondo. Abbiamo anche l'abilità di erboismo. Le due abilità, che sono le sue tip specifiche. Io in questo caso vado a fare 3-6 danni o 3-7 danni. No, sono in prima linea, quindi direi di provare questa. Su uno dei due. Gli faccio questo. Ho fatto 6 danni. Adesso tocca a me, vedete, posso fare il rogo, che sono efficaci su tutti. 6-10, 7-11. Direi che facciamo il rogo. Su questo, sempre. Eh, ci stanno dando una ramazzata, però vabbè. Intanto, lui attacca il primo, che almeno così non ci attacca più. Allora, tentiamo il fulmine. Potevo farlo prima, il fulmine che era ancora in due, potevo fargli danno. Vabbè, intanto. La vita, la vedete qua. Le abilità, ogni abilità costa un tot, alcune, costano un tot di questa energia che andiamo a consumare. Mancato. Mannaggia, non ci voleva. Però adesso dovremmo porre fine alle sue sofferenze. Vedete, in questo caso ci costa 20. Guarisce il 40% del bersaglio che curo lui. E lui fa quel che deve. Usando 14 punti. Vedete che scende a 46, però abbiamo battuto i nemici. Ora c'è il saccheggio, con lo scudo del pugno. Ma io devo dirvi che mi sta intrigando molto più anche di quel Might & Magic che uscì diversi anni fa, che era fatto bene. Però anche il fatto del looting, di tutte le abilità da sbloccare, la storia che la fa da padrona. Su un costo vogliono i morti. Ok, va bene, andiamo avanti. Cosa sta succedendo? Quel drago. Troviamo un posto sicuro in cui riposare, poi parleremo. o peggio. Ok, il gioco praticamente si apre dopo circa 40 minuti portandoci via dal tutorial. Ovviamente potete usare anche Q&A per muovere, ma non ha senso perché fa totalmente bene questo movimento così che... Cioè, in pratica... Ok, non l'avevo manco notato, c'è l'ossigeno. Dove possiamo trovare le sacche d'ossigeno dove... si respira e dopodiché dobbiamo darci una mossa. Non abbiamo chiavi, quindi dobbiamo muovere. No, qua è dove eravamo prima, mannaggia. Ci siamo persi proprio... No, qua non si può fare niente. Inserisce la chiave. No, qua chiave non... Chiavi non ne abbiamo. No. Niente, daremo un'occhiata. Deremo un'occhiata in giro. Uno buono. Chiave. Un vaso. Non lutabile. Vabbè, andiamo a vedere se la chiave è giusta. No, non è quella. Quindi torniamo in Drio e andiamo qua. Ok, apriamo questa. Vediamo. I fallo possono essere usati per rigenerare la salute dell'energia dei personaggi, la salute dell'energia manuale. Ovviamente si possono dare, non so ancora come esattamente, però dovrebbe essere possibile usare le abilità dei nostri omini qui per curare tutti noi prima del combattimento. Abbiamo il diario con le varie quest, le cose da fare, la guida dove ci riassume quanto detto dal tutorial. Andiamo a riposare. Lì nell'angolo quell'energia sta pregando di essere bruciato. Ok. Morte permanente. No, questo è il livello di difficoltà. Riposo, salva la partita. Salvo la partita. E riposo. Raccogli legna, altra legna da ardere per riposare. Ok, usciamo. Molto bene. Mo, bisogna, diceva, la quest. Questi sono dialoghi che hanno tra di loro. Allora, castello sommerso, i tre mondi, compagni, giosca. No, vorrei andare, entra nella prima torre. Trova la chiave. Ok, stiamo salendo allora. Prendiamoci qualche momento per il rassaggio e per farlo primo. Ok. Vabbè. Quindi non mi vuoi far salire. Viene l'angolo. Ok, ok, ok. Non pensavo avessimo riposato. No. Allora, ok, interagiamo con l'ambiente. Perfetto. Non avevo letto io, ma sapete che è una peculiarità mia questa, di non leggere mai i testi. Allora, riposo. Vai. Ebbene, tempo di riposare. Ok. Stanno parlando ancora della storia. Adesso io non voglio tediarvi perché poi i tempi sono stretti. Hai segnato un cervo. Col cervo ti ha portato qui. Ok. Si gli sta raccontando la storia della sua vita. Leva. Scusami, ma... Aha. Andiamo, 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 andiamo. Ma adesso? Ah. Boom. No. Eh, leva. Yeah. No! Boom. Siamo dei... Piccioni qua. Ma che sono caduto. Eh, non è... Non è sicuro qui. Allora, leva 1. Si va, si va. Speriamo in bene. Ehm. Sì. Era un puzzle molto semplice questo, ma va bene. Allora, attira la leva. Ok, no. Si torna indietro. Eh, guarda questo. Ok. Nemico. Uh, gli facciamo l'imboscatina. Allora, vediamo un po'. Vediamo un po'. Lui potrebbe fare l'attacco su quello dietro, dato che è più debole. Noi invece facciamo il colpo di fulmine, che ha una percentuale di colpire anche i nemici, ma in questo caso ci è andata male. Allora, attaccano tutti in serie. Ora dobbiamo porre assolutamente fine alle sofferenze di qualcuno di loro, perché... Ehm... Ok. Perché se no, se attaccano in tale duriamo veramente, veramente poco. Allora, adesso iniziamo l'attacco. Ok, lui fa un buon danno. Non è ancora sufficiente. Vedete che queste tre abilità ce le ho anch'io, come personaggio indie. Quindi... Allora, ok, ne resta solo uno. E in questo caso lui potrebbe fare... Infetta il tuo nemico. Ah, ok, è bello. E poi tu gli dai una sfulminata. Ma lui continua. Ma ci manca. Costantemente. Allora, dato che giochiamo lui, poi gioco io, io ne approfitto e gli dico di curarmi un pelo, no. Eh, io ho perso dieci punti, lui ne ha persi diciassette, quindi dire che la priorità è lui che deve curarsi. Ok. Ok. Abbiamo preso dei cenci. Vediamo un attimo se possiamo... Ok. Devo capire come fare a equipaggiare con la P. Vediamo un attimo. Vediamo. Ok. Monti questo. Non c'è altro da poter montare di utile. Quindi, niente. La spada abbiamo ancora a base. Lui ha la sua. No, lui non sta equipaggiando niente. Va bene. Andiamo avanti. Oh, cos'è quello? Allora, qua niente, niente. C'è una porta chiusa. Non si può interagire. Puoi aiutarci? Chi parla? Oh, aspetta, aspetta che mi sono girato. La prima volta che vedo qualcuno... L'uscita è libera. Dove essere... Ah, ok. Abbiamo parlato con una tizia che ci ha... Che ci ha detto, ci ha ringraziato. C'è qualcosa qui. C'è un borsello piccolo e oro. Perfetto. Io non so dove andare adesso. Perché lì sono tutte aperte le porte. Ma non so cosa c'è qua dentro. Dentro qua, perché vedete che la mappa adesso... Ok, è andata a completarsi. Non sembra esserci nulla, però, all'interno di queste celle. Quindi andiamo avanti. E vediamo cosa c'è in questo buco qui. Ah, siamo tornati giù. Niente. Andiamo su. Almeno, io credo che qui la nostra avventura sia finita. Cioè, siamo arrivati in cima alla torre. Ok, niente. Abbiamo perso vita. Allora, non abbiamo legname per riposare di nuovo. Quindi andiamo tranquilli verso un'altra torre. Guarishime è in vede la compagnia. Usa control e usa l'incantesimo. Perfetto, è quello che vi dicevo prima. Uso su di lui. E lo uso su di lui. Lo seleziono. Premo G. Seleziono lui. Ok, siamo tutti curati. Tutti più buoni. L'ambientazione è fighissima. Veramente fighissima. Allora, abbiamo delle gname con cui possiamo riposare. Come si diceva questo castello? Ok, loro intanto si continuano a fare la discussione. È bello perché è una progressione comunque basata tanto sul dialogo. Guardate quanti. No, io salvo la partita. Non ha senso che io vada... Ok, vediamo un attimo con il tasto J. Raggiungi prima il pianificatore. Ok, abbiamo preso la chiave. La chiave dovrebbe aprire l'altra porta. L'altra porta che abbiamo visto prima. Quindi... Oh, qua siamo un po' più andati in basso, basso nei sotterranei. Saccheggia tutto. Sotterranei della prima torre. E direi che qua è proprio pericoloso. Quindi torniamo su. Allora, adesso avevamo trovato un'altra porta chiusa. Probabilmente la chiave che abbiamo trovato apriva quella porta. Quindi questa, infatti. Però qua scende. La scala scende. C'è un forziere di là, forse. Eccolo lì, uno scheletrozzo. Allora, al momento lui non ha nessuna abilità. Perché ha usato tutto per curarci. Quindi faccio fare la... Tutto quelli dietro? No, direi che lui attacca quello davanti. Il guerriero davanti, se puoi. Ok. Io faccio... Ok, ha colpito i due dietro. Perfetto. È andato tutto secondo i piani. Anche se... Ci fanno il paiolo tra un po'. Allora, lui continua attaccando quello davanti. Io mando al rogo... Ah, no, posso attaccare solo quello davanti io con questo. Eh, vabbè, dai, proviamoci. Ok, il primo è andato e mi mancano solo gli aceri... Che ci attaccano. Allora... Eh... Sì, direi che ti conviene perché... Adesso ci penso anch'io. Ok. Adesso attaccano. Finisce il turno. Si ricomincia. Ok. Allora, tu attacca sempre lui. Che magari... Ok. E io attacco anche quello che... No, scusami. Cos'è questo? Difesa? No. Ok, vado a difendere meglio per il prossimo turno. Ma non... Nel caso... No, dai, ce la facciamo. Ce la facciamo anche abbastanza agilmente. Che adesso attacco anch'io e... Uh, mancato. No, 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 no. Ok. Bravo, bravo. Ok. Soldi. Cencio, sandali. Ok, abbiamo preso un po' di roba. Nuova voce di diario aggiunta. Cavaliere e scheletro. Vedete, c'è tutta la descrizione. Andiamo a equipaggiare... Lui, poveretto. Gli diamo un po' più di protezione. E noi invece mettiamo questi. Poi. L'elmetto... Io lo do a lui. Perché comunque l'elmetto... Ne ha bisogno. Perfetto. C'è un fallo già acceso. C'è un forzie... Ah, abbiamo preso legna. Perfetto. E qua si può andare a riposare. No. Non è un fallo? No. Evidentemente no. Andiamo avanti. Poi non so quanti di voi magari lo hanno già giocato. Uh, pupupupu. Che li facciamo l'imboscata. Ok. Quanti di voi lo hanno già giocato su... Epic Store? Solo mi ricordo se costa... 19 o 29. Ok. Niente. Siamo messi proprio malissimo qua. Dobbiamo... Riacquisire un po' di... Di punti... Mana, insomma. Per le abilità. Perché... Se no va... Va proprio male. Allora... Mi fai colpire quello dietro? Perché? Si sono messi in protezione? Va bene. Allora... Eh no. Se è lui che sta proteggendo anche quello dietro. Quindi... Dobbiamo abbattere lui prima. Se non ci lasciamo le piume. Ci tolgono poco danno fortunatamente però. Adesso... Ok. No, no, no. Molto, 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 molto male. Molto male. Anche se di vita ne abbiamo ancora. Adesso è lui che protegge. Eh vabbè. Se la stanno giocando proprio meravigliosamente. Ma... Eh... Fortunatamente... Qualche colpo ogni tanto non va a segno. Ok. Dagli un colpo ancora. È mancato. Mannaggia. Adesso ci prendiamo... La raffica. A parte loro. Io sono quasi morto. Eh... Mannaggia. Mi servirebbe tanto... Riacquisire un po' di punti di abilità. Ma non no. Allora adesso l'ingattesimo è finito. Quindi... Tu fai 3 set. Speriamo tu non faccia... 3 set. E... 2,5. 2,5. Tanto uguale. Quindi direi che attacchiamo lui. Che è un po' quel messo peggio. Mancato. Fortunatamente. Tu... Sani di legnate questo. Fai... Eh mannaggia. Eh vabbè dai. No! Questo cambia tutto. Ah ok. Ci manca. Quindi... Va bene. Ok. Uno è andato. E adesso facciamo fuori anche. Non ho parole. Dobbiamo attaccarlo con l'arco per forza. Perché... Beh è mancato. Siamo proprio dei babbanozzi. Niente. Ma no ma perché? Scusa dagli una spadata tu no? Eh... Picchialo. Lo picchio anch'io. Non continuo a mancarlo. Ok dai. Vedo una scala lì però. Cappello di cuoio. Bene. Livello superiore. Ok. Abbiamo... Abbiamo raggiunto il livello 2. Il numero di punti vita massimo aumenta. Le abilità aumentano. E quindi andiamo a potenziare. Intanto potremmo già con G andare a curarci. Ma non serve perché abbiamo già... Siamo già saliti di livello. Quindi ergo. Col tasto... Che non mi ricordo qua. Ok. Allora. Vediamo un po'. Punti talento. Uno. Ne abbiamo uno. Scelgo un talento. Spendi punti talento. Un'abilità. Man mano che si va avanti si sbloccano. La furtività. Nasconditi nell'ombra mano che si va a prendere la mia per due turni. Vedi che 15% interessante. Giocatore d'azzardo invece colpo facile. Spara velocemente. E lui non è un guerriero. Cioè lui attacca a distanza anche lui. Quindi... 7-14 danni con la capriola. Sì dai. Prendi la capriola. Sblocco l'achievement di Steam di Conosco il Kung Fu. Va bene. Io vorrei però adesso vedere anche Indy. Che cosa può prendere. Possiamo prendere anche queste. Cosa sono le... Sono delle sorte di abilità passive. Posso prendere studioso. Che è la paura. Che mi manca. O possiamo ridurre il consumo energetico del 3%. Intelligenza. Aumentare anche l'intelligenza. Quindi spendendo sempre un punto talento. Una volta che avremo preso 3 abilità di queste. Una su 3 vedete. Potremo accedere alla ramo dopo. Fare 2 siderale. In questo caso. La palla di fuoco. Io voglio la palla di fuoco. Quindi bonus danno da fuoco più 10. Io prendo questo. Vedete che diventa 2. Al prossimo. Che prendo. Sbloccherò la palla di fuoco. Va bene. Abbiamo livellato. Quindi si va avanti. Ma non oggi. Nel senso che ora salveremo la partita. In qualche modo. E concludiamo qui l'episodio. Ragazzi. Non mancate di farmi sapere che cosa ne pensate di questo gioco. Che per quanto. Il termine vetusto non mi piace usarlo. Però per quanto. Vedete che qua mi chiede oggetto missione. Quindi mi serve recuperare qualche oggetto. Per far scendere quella leva. Allora. Vetusto non mi piace come termine. Perché la meccanica si. Non ha senso il giorno d'oggi. Ma è fatto bene. Ha un botto di lore. E stant'altro sta correndo il nemico lì. Mi scusi. Vabbè. Io mi interrompo qui ragazzi. Fatemi sapere. Dicevo. Lore ne ha da vendere questo gioco. È completamente in italiano. Era già uscito su Epic. E ora l'esclusiva è finita. Ed è uscito anche su Steam. Io ce l'ho su Steam. È un single player. È un gioco di ruolo. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Come sempre. Alla prossima ragazzi. E ciao ciao.